Questo è il nuovo giochetto e lo sto provando adesso con il taglia erba a lama, il decespugliatore a lama perché queste sono cresciute in un attimo sono belle grosse e allora la batteria, doppia batteria che vedete dietro, tenuta da dentista, imbragato e vedete questo va ovviamente qua c'è un tombino devi stare attento a non beccarlo a me dispiace tagliare tutta questa bella vegetazione ma le graminace no tutte queste questo farro che mi portano all'allergia quindi morso tu a vita mia e si giù giù giù